D'ora in poi l'area della Rocca Malatestiana sarà sorvegliata 24 ore su 24 grazie alle nuove telecamere di ultima generazione collegate direttamente alle forze di polizia. Dopo i recenti fatti avvenuti proprio nei giardini antistanti La Rocca, l'amministrazione comunale di Fano è intervenuta per mettere in sicurezza la zona da eventuali atti di violenza ma anche da atti vandalici. L'impianto in questione è stato più volte sollecitato in consiglio comunale dalla Lega Fano ed oggi l'assessore Barbara Brunori ha provveduto insieme ai tecnici ad installare gli occhi digitali. Costo complessivo dell'intervento 34 mila euro. Siamo intervenuti in questo luogo con nuovi impianti di illuminazione e anche delle telecamere proprio per dare una risposta ai fatti precedentemente accaduti imperdonabili. Fatti che hanno toccato persone e cose e che inevitabilmente in questi anni vorremmo evitare proprio con un progetto di videosorveglianza che abbiamo attuato in città con l'installazione di ben 84 occhi elettronici diffusi in città anche ai varchi proprio perché le telecamere hanno una funzione di indagine molto importante sulla città per recuperare chi è il responsabile dell'atto. Responsabile che inevitabilmente quando fa cose non appropriate deve pagare. Quello che ci tenevo a evidenziare è che in questo caso c'è un'installazione importante perché parliamo di sette telecamere e quattro punti luci rivolti sia verso il parcheggio che l'area verde che metteranno in sicurezza tutto lo spazio. Inoltre verranno installate anche altre camere nei luoghi riqualificati di Fano tra cui il sottopasso di Viale Caroli entro la fine dell'anno. Poi continuità in quello che sarà l'installazione della Darsena che dovremo inaugurare per agosto, la futura piazza Marcolini che verrà riqualificata e tanti altri, tutti quegli spazi che andremo da qui a fine mandato a riqualificare proprio perché la telecamera oggi è molto importante. In conclusione l'assessore Brunori ha richiesto ad Aset di proporre una ricognizione delle aree ecologiche e avanzare delle proposte sempre sul tema dei controlli e della videosorveglianza. Grazie a tutti!